Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale Seconda parte della build della casa industriale fatta Seguendo lo stile del nuovo kit loft industriale appunto Trovate la prima parte qua sul canale Vi ricordo che ci vediamo anche in live alle 21 sul sito Viola Detto questo vi lascio al video e buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti